ragazze sono in un posto fantastico bellissimo invitata ad un matrimonio e ne approfitto per farvi vedere il mio nuovo orecchino mio marito ciao ciao allora ne approfitto per farvi vedere questa bellissima visuale siamo in un in un posto di palermo meraviglioso invitate ad una cerimonia e nell'occasione ne approfitto per farmi vedere questo orecchino che io adoro ma praticamente mi è successa una cosa un po particolare non sono riuscita a fare il secondo e quindi mi sono dovuto inventare una specie di mono orecchino facendo una cosa molto semplice perché all'ultimo momento non avevo tempo approfitto di questo gioco così per farvelo vedere indossato e al più presto spero non so quando di poter fare un tutorial stiamo aspettando gli sposi e io vi saluto ciao